Buongiorno, hai più linee di produzione e poco tempo per gestirle? Nessun problema, tramite la nostra nuova gamma laser potrai sfruttare un touchscreen da 10 pollici trasportabile ed utilizzabile con più marcatori. Presenta un'interfaccia utente facile ed intuitiva e consente la creazione o la gestione di testi, loghi, barcode e data matrix direttamente in linea. Se quindi possiedi una o più linee di produzione con differenti velocità, materiali e messaggi, la gamma Tradex ti offre gli strumenti per rendere il tuo sistema flessibile ed integrato. Per maggiori informazioni, non esitare a contattarci, puoi trovarci sul nostro sito internet www.tradexsrl.com e su tutti i principali social network. Buona giornata!